Buongiorno, buongiorno a tutti faccio il video vostro homeless, una delle persone che vive in strada chi è che lui vorrebbe essere il preferito, vostro homeless sono io faccio questo video da un posto, vabbè, che vi ho fatto credo l'avete già pubblicato il video non diciamo dei miei posti preferiti ma si, preferiti dove prendo il caffè, dove lo sprocco lo sprocco è una parola nel senso lo chiedo, quando non ho soldi e tutto il resto vabbè, nulla, volevo dirvi a questo video che io non uso doppi sensi cioè questa persona che vedete che sulla carta di identità ci si chiama Gabriele ha alcuni nomi non lo dico cioè non uso doppi sensi perché a volte cioè questo qua ha un movimento è un movimento che non ha nessun significato non ha nessun significato e nulla, volevo dirvi questo perché ogni tanto arriva queste cose un po' strane i messaggi che mi dicano questo vuol dire questo vuol dire c'è una sorta di traduzione ecco, allora come traduzione io sono Gabriele e vi dico la mia traduzione è una lingua italiana sono andata in Italia in Italia ho fatto le elementari le medie ho provato le seguità che non ce l'ho fatta io ho appena fatto vedere come bevi il caffè magari come viene anche su questo sono fatto le elementari dai vedi spero che ci ho provato non ce l'ho fatta sì, un primo anno ma nemmeno perché non ho dato chiesa non l'avrei passato se ho fermato prima e niente voglio dirvi questo quando guardate i miei video studiate giusti studiate l'italiano che ho studiato io direbbe qualcuno ma l'italiano che ho studiato è buono è buono quindi tranquillizzate non pensate sempre male e niente poi faccio adesso che è un altro video vi faccio vedere come devo il caffè e niente tutto qua arriviamo a tre minuti quindi tranquillizzate non uso troppi sensi c'era i messaggi segreti non esiste proprio guarda messaggi segreti che arrivano no 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 se arrivano messaggi segreti no 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 non esiste proprio e niente io vi saluto è stata una buona giornata statemi a buono dicevano a Napoli non lo so perché non lo posso dire sono confenditi sempre buona giornata a tutti grazie a tutti